E' morto l'attore francese Robert Clary, noto per la serie e gli eroi di Hogan e per aver partecipato ad alcune soap come Febbre d'amore, Il Tempo della Nostra Vita e Beautiful aveva 96 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla nipote Kim Wright a The Hollywood Reporter. Clary era sopravvissuto all'olocausto, tornato in Francia nel maggio 1945 e cominciò a guadagnarsi da vivere nelle sale da ballo. Arrivato a Los Angeles nel 1949 iniziò a intraprendere la carriera di attore. Grazie a tutti.